ciao ragazzi come promesso oggi escono due video di icoria stiamo andando a vedere la nuova espansione per quanto riguarda le sue meccaniche la stiamo andando a vedere nei formati limited e chiaramente insomma con tutto quello che ne consegue per un giocatore che non è la prima volta che vede queste carte a parte lo spoiler ed è la prima volta che gioca questo limited ci stiamo veramente divertendo ci siamo davvero divertiti nelle cinque partite abbiamo giocato in siled nel video che è uscito a luna se non l'avete visto andatelo a recuperare e adesso ci andiamo a fare il primo draft con gli umani ma che figata è ma che figata è andiamocelo subito a fare perché secondo me sarà divertente intanto andiamo a vedere come la lobby eccola qui quindi troviamo un player e poi piano piano si aggiungono gli altri probabilmente saremmo stati insomma magari i primi a scusate saremmo stati uno degli altri se fosse stato libero un tavolo perché di solito comunque su mtgo funziona così non so se su arena l'avete visto mai però appunto è proprio questo io mi piace insomma sono contentissimo che ci sia il draft con gli umani contentissimo a dire poco finalmente magic arena diventa magic per davvero e poi non so qual è il formato chiaramente sarà molto meno punitivo molto probabilmente sarà best of one questo e quell'altro rispetto a magic online però io credo che sia davvero una roba meravigliosamente importante per chiunque volesse giocare su magic arena e volesse prendere e divertirsi perché i bot ragazzi avevano comunque rotto non riuscivano a draftare bene non potevano individuare quali fossero i come si dice i power level delle carte dopo che il draft è cominciato perché quando tu hai determinate sinergie non le potevano individuare non levavano carte appunto che facevano sinergia ma magari levavano solo la carta più forte ogni pacchetto non stavano attenti ai colori invece adesso abbiamo degli avversari umani che secondo me appunto riusciranno nell'intento di metterci davvero in difficoltà noi speriamo chiaramente di fare il nostro che sia comunque interessante per voi questo video come insomma interessante per me giocarlo è la prima volta appunto che si vedono questi draft ringrazio ancora wizard of the cost per avermi dato la possibilità di provare in anteprima il prodotto di aver quindi provato questo streamer event di magic arena icoria quindi della nuova espansione in anteprima tra l'altro vi dico questo ragazzi una cosa che non vi ho detto ci saranno da lunedì delle live sul canale di every eye quindi su un canale di uno dei più importanti siti di videogiochi al mondo dove io giocherò a magic e cercheremo appunto di vedere che cosa come icoria ha impattato il formato formato standard ovviamente e magari ci faremo appunto anche qualche partita insieme a nuovi amici pronti a draftare finalmente che bellezza finalmente quindi ragazzi tra l'altro non è stato neanche voglio dire non ci ha messo neanche tanto a trovare gli altri avversari e se ci pensate siamo nello streamer event ci sono solo quindi i vip i content creator i giornalisti e così via non c'è la massa di persone che ci sarà da domani anzi da oggi pomeriggio a questa parte che quindi io credo ma credo è una parola insomma così io sono sicuro che questi tavoli si riempiranno in un click poi magari non sarà vero però grazie wizard of the ghost guarda ve lo dico pure in cam totale grazie wizard of the ghost grazie per i draft con gli umani con gli uomini con gli altri avversari grazie ed eccoci qua pronti a draftare vediamo che cosa combiniamo con il nostro draft con la nostra fase di draft oh attenzione open seat ah l'ultimo ha avuto dei problemi ready 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 però che doveva trovare solo uno immagino che ci impiegherà di meno o qualche bug caspita mettere un video con un bug speriamo di no ce la farà il nostro eroe niente qui se scade il tempo e tutti non sono ready tanto solo l'ultimo non è ready io a quel punto devo dire la verità wizard forse avrei fatto che se succede questa cosa qui dopo che ho aspettato ci metti un bot tanto non lo saprà mai nessuno ci scrive un nickname a casa quindi si ripete di nuovo guarda se sto video lo devo rifare da capo no speriamo di no niente quindi di nuovo lo ritrova sempre subito saremmo tutti e sette secondo me a rifare ready qualcuno magari si è alzato da questo punto uno dei sette si è alzato ha detto no ma che pizza no eccolo qui e l'ultimo niente sempre niente vabbè vado a fare ce l'abbiamo fatta dico vado a fare pipì no ce l'abbiamo fatta oh quindi fammi vedere questo è il tempo il tempo di draft offspring revenge che è quello che avevamo nel sealed che ci costringe già a fare tricolor non ho grande passione per questa carta non lo so non lo so allora vediamo i non comuni così così no questo è quello no 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 forse questa è la carta più carina una 2-2 che tappa pezzo e poi non stappa cominciò il draft da qui anche perché iniziare con una tricolor anche se è rara non ha grande senso ragazzi perché poi siete veramente dovete fare quei tre colori non è bellissimo eh non è bellissimo per niente allora frost links anticipate carino questo abbiamo detto è carino questo mi sembra un bel pick questo mi sembra un ottimo pick comunque bellissima meccanica mutate mi piace veramente molto e questa è l'emozione se vogliamo avere blu verde questo chi è? che è una non comune se muta a sbuffo proprio fa x damage wow questa tra l'altro è blu eh carina protegge tutti i flyer ma non lo so tra queste due chi è meglio però forse è meglio lei ha 3-1-2-2 che protegge tutti i flyer va bene così ce l'abbiamo presa questa no questo è un sasso che possiamo pensare di prendere blu rosso bianco blu verde rosso va bene carte forti quindi se siamo bianco blu volanti che è un archetivo che in draft funziona sempre direi che questa per uccidere un blocco grosso tanto male non è questa ce l'hanno giocata contro è carina non lo so per fare blu nero per fare blu nero non lo so memory leak è uno scartino questo chi è? ma 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 sasso 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 questo ma questo forse è un po' una merda alla fine sasso alla fine sasso ah però questi ho blu e bianco vediamo un po' come va carino questo è molto carino sul blu nero è a 1 1-1-1 se muta da meno 1-2-2 a un credo avversario questo fa volare i pezzi questo l'avevo letto nello spoiler è così così tap e non si tappa a 4 con flash questo 1 e che è un po' forte dopo perché diventa 4-4 questo è una solid pick a 5 questo si va con gli instant le torse non mi piace quest'uovo non mi piace farfinder che fa boh prendo questa rimozione ma non sono contento un ultimatum l'ultimatum sul tie tre monocolorino di different name è pure un ultimatum scarso infatti l'hanno lasciato fino a qua questo si cicla e metti touch counter questo è carino tap up to target credo scrive tu è malissimo eh questo è malissimo questo è quello di prima che non è un po' ah questo è forte blu verde questo è forte ho tutte carte blu non devo andare più blu 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 oh non riesco a parlare questo mi sembra una carta forte vabbè mi piace blu verde comunque questa è quella nebbia forte e questo è proprio forte questo è un blow out io la prendo questo è un blow out a questo riempie la curva a 6 va in 5 5 così via migration path 2 basi che le mettiamo no anche no vigilance 2 4 a 3 mazza come stazza è forte questo questo abbiamo già preso no e in fondo però non possiamo far volare un altro troppo a 3 quindi preferirei prendere un affare che riempie la curva sicuramente sì vediamo se veniamo premiati dalla rara del pacchetto 2 perché la rara nel pacchetto 1 è stato un po così bello bello il draft con gli umani dai wizard dai che ce l'abbiamo fatta questo è quello che ci voleva questo è quello che ci voleva il magic arena per rilanciarlo mi vedrete fare sicuramente molti più video di limited magari col mio amico massimo che è un giocatore forte di limited mi aiuterà se questo vuole tanto non è il mio account è solo la gira vip però poi non viene dato a me appunto va bene prendiamo questo boar abbastanza inutile vi devo levare le lenti a contatto pensavo notare fare tanto il film in questo video per fare senza occhiali ma mi stanno dando fastidio quindi le leverò presto anzi adesso no perché devo draftare poi magari dai un po amico mio certo due ore questo chi è ha fatto tutto il giro rega non lo vuole nessuno che merda si cicla e non fa stappare ma manco lo tappa beh prendo questo ma non lo giocherò doppio di quello eh niente c'è sempre uno che ci sta mettendo una vita noi qui ce la possiamo prendere quel puzzle di topolino che c'è lo farò vedere un giorno è gigante tra l'altro tutti i personaggi disney in un puzzle solo questo che è il mio amico lo volevo tanto lo prendo ma non è che poi alla fine mi sa che non lo giocheremo questo è forte mutato perché avendo già questa abilità qui si è riuscito a mutarlo in qualche modo eh 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 questo è forte eh la nebbia è forte questo è forte ma il mazzo per ora c'è eh non è che fa schifo un sacco di creature vero per ora sette creature e tre non creature va bene ragazzi io le lenti al contatto me le vado allevare tra un picco e l'altro perché mi pare di aver capito e qui siamo sulla lentezza unica probabilmente c'è qualche streamer che a magic non sa giocare gli hanno dato oh tu sono streamer famoso perché non fai lo streamer event di magic io ho detto sì 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 da paura però insomma ancora niente da fare siamo fermi qui siamo fermi qui ok una terra blu nera che non serve a niente beh da una vita che carta ho appreso questo si può direttamente mettere in sideboard si come se un magicco line plummetto plummetto interessante come sideboard material questo via e questo via pronti per il nostro pick importante che abbiamo trovato destro il target non la permette di creature ah ok a 3 distrugge una creatura ma se lo fai con i colori verde bianco nero in tutto distruggi target ma è stata bellissima rimozione bellissima rimozione mostro step l'ho letto prima è carina flying o exproof per una 6 vabbè così così questo è carino ma fin là nel rosso che abbiamo perché noi in fondo il verde possiamo pure decidere di potremmo fare blu nero prendendo questa rara mamma mia a limite la splashiamo troviamo un evolving wise perché era veramente un pacco brutto sbaglio cioè forse non l'ho visto bene che non ho gli occhiali ho levato le lenti e non ho gli occhiali uh questo shark è fortissimo l'abbiamo visto prima lo vogliamo giocare tutta la vita quel coso vero? se lo vogliamo giocare tutta la vita te la prendi a straffare eccoci qua silenzio di tomba questo che prima nel video che se l'avete visto del siled vedete non abbiamo mai pescato allora adesso che siamo neri no questa è una carta che secondo me è carina in draft vedrete che ci monitorete più volte di quanto pensate questo reach of vigilance sono quelle carte che devi scegliere ma a 5 una 35 forse effettivamente è forte per il nostro mazzo meglio di counter qui caspia abbiamo veramente zero rimozioni ci sarebbe peso morto se switchiamo nero ma dobbiamo proprio essere convinti di switchare nero eh però effettivamente cominciano a passare delle carte nere che sono molto forti peso morto è una di quelle oh questo è forte questo ce lo prendiamo sicuro tutte le altre sono così così quindi questo ce lo prendiamo sicuro ah ma è verde poi alla fine facciamo verde e nero che facciamo? questo fa un casino che sa che mamma mia un casino proprio allora diciamo che non giochiamo nero e abbiamo zero rimozioni praticamente abbiamo un blu verde coriaceo ma con tutte carte mediocre niente di che veramente niente di che mazza questa è molto forte tra l'altro è pure nella curva i colori di mutate ci sono io adesso vado a prendere un sacco di carte con mutate e la faccio gli do del valore spero di dargli il valore a uno che c'ho? niente perché dice che ho una cosa? ah perché ho questo che viene considerato a uno va bene dobbiamo prendere un sacco di troppo a due che non abbiamo eh il formato mi sembra un po' lento però niente questo tra l'altro sempre se volessimo nero sarebbe forte un altro sasso blu verde e rosso come sasso flash uuuu a 4 fa 3 danni una specie di rimozione di merda e prenderò un sasso in fondo è il sasso dei nostri colori va bene ah pensa prima abbiamo preso comunque molte carte nere comunque blu verde lo volevano fare tutti diciamoci la verità perché tutti non troviamo niente e blu verde troviamo delle carte nere che sono forti tipo queste questo si fa 3 diciamo che per curva è meglio del boar perché del boar tra l'altro ce ne abbiamo due ripeto tutte carte mediocre questo non lo voglio giocare per ora la rimozione in verità una ce l'avevamo perché era quella abbiamo nebbia che può fare veramente un trick pesante ultimato che è verde nero sempre se avessimo giocato verde nero questa 3 che mette le terre comunque carino probabilmente averci il secondo non è sbagliato però non è manco sto campione tra l'altro noi ripeto abbiamo una creatura con mutate dovremmo averne no due dovremmo avere mille per far funzionare bene questo che è l'unica cosa due capiamo ma non ci sono roba due in blu verde o me l'hanno fregate tutte questo si cicla e in caso fa rimozione però la fa 5 secondo me è una carta decente ciclare permette nei draft di giocare una terra di meno se avete tante carte che si ciclano questo ve lo voglio dire in anteprima quindi se avete almeno quattro carte che si ciclano potete giocare c'è una 05 così molto meglio la terra doppia dei nostri colori la 05 così la prende la terra doppia dei nostri colori da anche una vita noi servono dei drop bassi delle carte basse di quei colori tipo l'umano che pesca scarta il counter alla fine ce lo prendiamo perché schifo non fa solo cosa 3 non va bene non va bene non va bene questo proprio ho fatto di tutto per farci prendere questa creatura un plummet me lo gioco sicuro è il secondo in verità quindi potevo non prenderlo questo fa schifo via questa è un'isola via una rara blu o verde niente è un companion che tra l'altro non userà nessuno exile up to treat target enchantment non ci serve un blu rosso che non fa niente non ci serve un verde nero non ci serve ok volevamo l'umano a 2 abbiamo l'umano a 2 e c'è anche essence cutter io dico l'umano a 2 vai vai amico mio song of creation la carta di cui tutti parlano ma che nessuno riuscirà a rompere noi non abbiamo rosso il nostro mazzo tra l'altro non credo che sia una bella carta draft direi proprio di no anzi io direi che i drop bassi ci mancano anticipetto non lo voglio prendere keep safe non lo voglio prendere chi è questo niente l'abbiamo letto prima prendo proprio te 1 1 che un giorno si trasformerà con 4 4 una mutate ma che dobbiamo fare ci attacchiamo a sta schifezza questo si cicla eh giusto per la cronaca perché una cosa buona ce l'ha un'altra nebbia un altro cacatone ah carino questo peccato noi abbiamo zero roba commutate abbiamo un'altra rimozione no io prendo essence cutter qua così almeno per motivi di curvo ovviamente eh non l'avevo visto decido di prenderlo ovviamente ripeto mazzo mediocre non non so quanto forse addirittura 0x eh però 2 4 vigilance sta lì fa cose cioè nel senso non fa passare la gente mazza questa sarebbe molto figo qualche carta con flash abbiamo pure ma non posso splashare perché non ho niente per splashare andiamo a prendere questa cacata tra l'altro non avevamo pensavo l'avessimo frost links è forte oh se c'è una cosa con mutate prendo una cosa con mutate eh sennò prendo frost links è meglio della roba che c'ho si fa 3 un'altra volta però è carino questo è una 05 ragazzi questo fa veramente schifo ah questo riprende uno human e uno non human quanti umani c'ho quello no prendiamo il secondo di questo ma proprio per sport infatti lo metto diventamente in sideboard anticipate non è il nostro mazzo quindi prenderò il secondo di questo proprio per fare creature ma questa è una carta brutta comunque anticipate che lo prendo a fare veramente non ho bisogno non è il mazzo di anticipate non lo so non ho saputo cogliere i segnali probabilmente e non ho ma io non sono un giocatore di limited lo dico sono qua per divertirmi e farvi divertire speriamo che alcuni di questi servi perché sono dei nostri servi riescano effettivamente a servire il proprio padrone qui abbiamo la terra tripla che in teoria o la terra doppia che ci fa questa è terra tripla che bianco non ci serve però si cicla ed è verde e nera e quindi è meglio di quella doppia che da una vita quindi ora possiamo pensare di mettere almeno questa almeno questa metteremo anche perché noi ci abbiamo per splashare io non ce lo pensavo che noi abbiamo per splashare abbiamo per splashare abbiamo per splashare questo questo ce l'abbiamo messo tra l'altro ne abbiamo due di counter quindi proprio che non ci servono secondo me convolut va già inside sicuramente questo secondo me beh è un 1 3 sta lì forse è meglio lasciarlo sono con creation inutile qui prendo anticipato così a caso e l'altra nebbia me la prendo l'altra nebbia me la prendo l'altra nebbia me la prendo non ho una vera finisher però adesso che lo guardo meglio non è che fa proprio così schifo eh l'abbiamo messa la carta nera si o no vai ok tra l'altro c'è il rischio di giocarla con tutto cioè di distruggere proprio target permanent vabbè è una carta molto forte richiede nero giocheremo una palude e poi giocando doppio di questo che prende palude noi volendo comunque quella carta la facciamo qui abbiamo 24 carte cominciamo a mettere inside dalle terre 22 quindi fondamentalmente noi alla fine possiamo giocare l'altro plummet mamma mia quanti ci abbiamo di stibuar 2 vabbè prendo un altro plummet ci avrò 3 plummet 4 plummet 4 4 giocatemi i volanti contro ragazzi giocatemeli provate provateci seriamente a giocare un volante contro akira eh che vi fa vedere lui chi è il signore dei plummet eh chi è il signore dei plummet chi è il signore dei plummet chi è ah ecco no no vi vedevo un po' come si dice eh no ma però eh no però un cazzo il signore dei plummet è solo akira allora una swamp ma che stai dicendo una 7 14 15 poi dobbiamo mettere questa 16 dice a 7 terre quante carte con cicloio pochissime quindi dice a 7 terre vanno bene vanno benissimo non bene non ho volanti non ho niente non ho sinergie sto mazzo non fa un cazzo diciamoci la verità manca una carta allora metterò effettivamente la curva è tutta a 3 quindi non manco tanto bisogno di rampare le removal alla fine ci sono metterò il secondo di questo vaffanculo io ci voglio credere voglio credere no no metto convolut oddio però tra l'altro questa è blu nera eh quindi proprio lo splash possiamo mettere pure peso morto che stiamo volendo una carina questa carta eeeh no giocheremo mamma mia che schifo la 3 5 già la stiamo giocando vero? perché sennò giochiamo lei si la stiamo già giocando no mille drop a 5 1 2 3 drop a 5 2 a 4 2mila drop a 3 non posso mettere un altro drop a 3 gioco quel cesso l'1 1 1 che a 4 si trasforma vai akira vai vai contro i mostri lanciati da magic da wizards no mazzo mediocre zero orare per noi se non una splashata abbiamo shadow e vip che tra l'altro ha anche fatto ho messo il suo avatar messo bene qui abbiamo stoffertlid io tengo anche se sono primo devo pescare una terra la pesco secondo me adesso la pesco proprio mo' eh 1 2 3 terra terra no però abbiamo pescato il nostro eroe non possiamo perdere ragazzi è impossibile perdere no need to arg come direbbero i fantastici crown bearers comunque frost links doppia sarebbe forte sarebbe in un mondo ideale insomma qui ce lo facciamo subito credere ragazzi guardate che cosa succede divertiamoci un po' con questo mazzo dai block bravo trick morto bravo c'è tenevi a quello? che se c'è tenevi mo' levalo va eh subito è stato un attimo lui che gioca tre colori verde blu nero vigilance ma questo è forte ah io non ho letta bene questa carta attenzione attenzione alla dimostrazione questo è forte ora noi prendiamo terra tappata blu terra tappata nera rampiamo facciamo co cioè abbiamo vinto 4 colori 1 2 3 4 una più bella dell'altra dell'attività dove la trovate? perchè io non ce l'ho così? ah sorcery che succedeva qui? number of lands you control bello no mi ha fatto danno mi ha fatto danno attenzione perchè comunque abbiamo pescato terra eh quindi ormai c'è la sicurezza di aver vinto nelle nostre carte c'è sicuramente ah certo questo c'ha pure vigilance ma quasi quasi faccio nebbia guarda dai facciamo a scambio questi due creatori la mia c'aveva pure rich vero? si c'aveva pure rich che cagata meno male che non l'hai fatto bianco se no mi metto a piangere vai contro i mostri lanciamoli faccio uno dopo l'altro questi però eh uno questo muta questo muta questo muta questo muta 4-3 che non può essere bloccato con due segnalini una roba proprio cioè tante ho nebbia nebbia che non è nebbia vi ripeto questa è una nebbia forte questa veramente ci ammazziamo la gente pesca e scarta vai che non c'è un cazzo vai che non c'è un cazzo pesca e scarti una terra no che è? perchè non scarta terra? attenzione pronti partenza via 4 danni lui ha 4 open in verità può succedere di tutto non succede niente eeeh beh hai una sola creatura questo che ci fa pescare le carte potrebbe essere buono potrebbe dico potrebbe ma forse era meglio fargli un 4-3 vero? era meglio fargli un altro 4-3 si e lui il 4-3 ce lo blocca così siamo a posto qui però capito se lui fa questa 6-6 io questa 6-6 che gli fa guadagnare anche delle vite gliela tappo eccola qui faccio questa terra che comunque me la meritavo attacco e tu devi bloccare se no mi fai pescare e allora pesco bene così come pensiamo a questa 6-6 ci penseremo dopo ci abbiamo questo un altro? no no questo 7-7 allora ragazzi vi ricordo che facendo questa nebbia le sue non fanno danno quindi noi dobbiamo preparare un blocco gigante che in qualche modo risolve la partita lo so è un po' complicato però intanto abbiamo questo eh quindi adesso questo quanto va fatto a 7? ma sai che ma sai che ma sai che questo io faccio mo' e io faccio mo' si voglio una 4-3 ovviamente questo te lo riprendo in mano take action attaccano tutte e due di questo ce ne abbiamo un'altra eh ora bloccherà la 4-3 no ci fa pescare un'altra carta noi un po' di board l'abbiamo messa ora ne prendiamo 6 lui ha 12 credo che ne prendiamo 6 chi è? ha 1 pesca 2 bella questa è molto bella eh se riesce a farla triggerare a 1 pescare 2 in draft è proprio fortissimo tant'è che poi fa una 7-7 e dice sai che c'è io non mi muovo da qua va bene 4-2-6 quindi noi con una nebbia quella l'abbiamo ammazzato questo è un volante noi quanto abbiamo? 4-5-6 terre che non sono manco tante in verità noi dobbiamo fare nebbia quindi possiamo fare solo una cosa da 3 questo tra l'altro quando muta fa le cose quindi non muterà farà un 2-3 4-5-6-7-8 possiamo con nebbia pensare di non lo so vincere questa partita mi sembra un po' complicato però ci penserà la nostra nebbia noi dobbiamo giocare un'altra con match up a creatura ma tanto non sarà con come si dice con la side of one mind questo è un mazzo proprio bello costruito bene bravo shadow io non ho capito niente questo formato diciamoci la verità diciamocela ho provato a fare delle cose così un po' a caso e vediamo 4-5-6-7-8 va bene siamo pronti eh 1 ma questo non si può bloccare con più di una creatura ok perfetto 4 e 2-6 e pure 7-8 a quel punto che ci frega se lui c'è una rimozione se lui c'è una rimozione intanto rimuove questo quindi tadaaa se te l'aspettavi c'hai counter tutta roba che more oppure ho perso perché posso aver tranquillamente perso non è che insomma e infatti distrugge questo madonna questo è un mazzo fighissimo cioè noi non perdiamo vite ovviamente questo diventa grosso se lo facciamo mutare ma non può più mutare perché non possiamo più attaccargli una creatura mi ero dimenticato di questa roba qui va bene direi che possiamo concedere perché insomma ma fa anche un altro no fa pesco e scarto noi qui possiamo se peschiamo terra possiamo fare questa e questa e poi boh cioè la lynch ci può aiutare la lynch ci può aiutare anche no è tutto iniziato da questa creatura con flying poi non abbiamo trovato più flyers quindi sicuramente avrà altre risposte perché lo vedo proprio troppo preparato tanto questo ci ammazza in due turni non può essere bloccato è come questi in vista 4 e 3 set ma che no blocks vai questo così questo così che dobbiamo fare ci attacchiamo a tutto pronti a concedere rotellina ask on seed rotellina ask con seed rotellina pronti a fare rotellina ragazzi eh pronti a vedere come si gioca magic bisogna essere bravi a fare la rotellina pazza che ho perso niente ho perso una creatura fatto il blocco migliore della storia va bene rotellina pensa un po' questa prende più 7 più 7 e obbligo questo a bloccare quindi quindi se non poi sono morto sull'attacco tanto lui avrebbe bloccato lo stesso vabbè vabbè lui aveva un mazzo bellissimo bellissimo complimenti al nostro oppo perché aveva un mazzo meraviglioso veramente veramente meraviglioso ok non c'è la side l'avevamo detto e andiamo avanti ci spaventiamo mica eh noi e le nostre frost links non ci spaventiamo mica non faremo così schifo come pensate no tieni guarda chi c'è abbiamo anche tutti i colori tra l'altro se avessi pescato un emuval qua chissà avremmo svoltata la partita non credo qui facciamo verde o facciamo cioè se c'è verde eh sì infatti facciamo verde facciamo questo anche perché poi non abbiamo il drop a 2 quindi possiamo fare tranquillamente guadagnare una vita questo a 2 ne trova un altro carino il nostro cosa ovunque il disegno è meraviglioso che poi non è che a 4 diventa un 4 4 cioè può fare svariate volte lui trova un altro 1 vabbè ci sta poi deve capire cosa fa con la nostra 2 4 questo praticamente è fortissimo perché dà rich e due segnalini perché tanto non lo userai mai come appunto 2 3 si spera che tu abbia stats migliori sulla creatura che fai mutare tanto pure questo ci avrebbe aiutato forse ho concesso troppo prest ah no ero morto ero morto giusto occhio che noi abbiamo questa eh per lui 2 4 perché rich glielo dà comunque quindi solo le stats noi faremo una 2 4 con rich con tutto con tutto proprio forse chi lo sa però costa 4 costa 4 adesso contentissimi di farmi fare 2 per 1 gioca anche nero forse è meglio tapparla per sempre a 4 tappare una creatura da 3 no del target disc creator no facciamo questa giocata qui questo già invalida la sua 2 2 perché ha rich ed è 2 3 quindi questo già è importante per noi e poi c'è questo che fa diventare rich questo qui per ogni essence cutter bene avremmo rischiato essence cutter sul mutate che forse era meglio ma ci saremmo tappati non attacco vediamo che succede adesso c'è anche counter per questo bene è stato costretto a rimuoverlo per fare 2 per 1 noi abbiamo sempre un problema ci mancherebbe questo che prende un segnalino minacciare noi abbiamo sempre un problema diciamo grosso perché purtroppo questo a fare qui poi a 6 noi gli cambiamo i connotati diciamo questo si a 4 si fa l'1 3 quantomeno permette di bloccare l'1 1 lui è giocato molto aggressivo comunque qui lui ci può ammazzare l'1 1 e noi gli ammazziamo l'1 1 suo ma chi se ne frega ma prendiamo un danno in fondo il nostro al turno dopo si salva non lo so penso comunque di aver giocato bene le mie carte ripeto il mazzo è mediocre però perché non ho fatto nero che mosse pescola verde bianco nera beh per fare distruggita per ma è andato a distruggere la creatura diciamo c'è la verità e questo tra l'altro se io gli faccio questa poi rimane lì e tutte le creature con flying hanno quell'effetto non è che siamo proprio contentissimi però pescano solo terre per ora era decisamente meglio il nostro mazzo del siled questo non è granché va bene proviamo perché qui se no la perdiamo auto tap solution ha trovato automaticamente la solution vabbè come gli pare c'è un altro counter c'è lui che gioca un fish un costruito un costruito in limited attenzione ragazzi siamo arrivati anche a questo no va bene quello rimarrà lì e tra l'altro darà il suo effetto che è tremendo va bene abbiamo capito che c'ha i volanti però questo vigilanzi io lo faccio oddio c'è un 1.3 per difendere dagli 1.1 si la faccio vigilanzi faccio terra e passo altra rimozione sulla 35 insomma non è male forse anche qui era meglio rich perché se gioca questo probabilmente a tanti volanti vai arriva certo pure perfetto vigilanzi ci potete tutto quello che cazzo mi pareva tanto avrebbe comunque fatto la stessa rimozione mia bella quella quella lo sapete che ci piace molto dettaccio life link immagino dettaccio lo saprà pure mi nonna e certo che è morta e noi chiaramente dobbiamo stare attenti a questa perché c'è tutto il resto è noia questo è molto interessante questo è molto interessante ci fa riprendere questo fa riprendere un pezzo a lui ambush questo è tutto questo ha no perchè no se muta rimane tappata questo costa uno di meno ma davvero? cioè lui ha fatto 4 per distruggere quello lì va bene io qui posso pure la fare liscia faccio una 4-3 anche perché c'è questo che combina questo demori lo sappiamo tutti perché gli dovrei rimbalzare un pezzo? cosa ci guadagno? niente niente proprio lui tra l'altro si è veramente ha committato qui in questo attacco tutto quasi perde il pezzo è bella così qui perché scarta ovviamente l'ha fatta automatico una terra allora teniamoci una terra in mano dovessimo rifarlo ma mi sembra che ho finito le carte commuted quindi non la potrò mai più fare non ha attaccato con la dettaccia che sarebbe stato un problema e non attacca neanche adesso giochiamo questo cesso che tanto schifoso non è però insomma si andrà a prendere dei segnalini ormai dobbiamo stare in difesa noi dobbiamo trovare tipo un volante ci manca proprio quel che non abbiamo draftato quella creatura che quando muta pesca ed è 3-4 volare quella ci manca proprio che è? ah perché posso scegliere lui? ah lo può fare pure due volte ma pensate forte cioè adesso io lo potrei levare un altro segnalino e farlo rilampare cosa che ovviamente non farò abbiamo anche noi questa poi questa attacca eh c'è tutti 1-1 che ci frega al limite si accoppia con questo la 4-3 non voglio che si accoppi però questa si può accoppiare ora bisogna capire se questa mi serve più come 1-1 per i suoi minaccioni o questo ha fatto a 1 dov'è l'umano? qua questa carta è veramente forte ci è capitata pure a noi non avevamo umani vi ricordate ho anche contato nel draft quanti umani avessi però non l'ho preso però mi piace mi piace moltissimo triggerarla è facile in draft molto facile a 1 pescare 2 è veramente tanto sì io questa decido di levarla per prendere più terre possibile ecco qua e soprattutto levarmi le pescate di terra che adesso non mi servono essence scatter ok vai a accoppiarti dai o con questi due o con questo spero con questo se c'è una creatura con flash c'è un sscatter quindi sto copertissimo tra l'altro gioco a blu quindi ce la potrebbe pure avere ci potrebbe avere lo shark shark beast guarda che bello c'è pure le braccia ho disegnato malissimo questo non so chi sia il disegnatore spero non sia un italiano che mi sta sentendo però non mi piace per niente non che io faccia fare cose peggiori insomma chi mi segue su instagram ha visto che se c'è una qualità che proprio non ho è il disegno va bene qui moriamo bella leva i tuoi 1-1 già mi stava da troppo fastidio ok questo essence cutter può risolvere la partita eh perché se lui ha una creatura forte che vuole fare per forza che si tappa tutto il male io faccio essence cutter e poi faccio un mostro per esempio questa che ha flash quando fa le cose con flash pesca è volante quindi guadagna da questo ah non era volante oddio forse gliela potevamo lasciare forse è stato un abbocco questa non è una bella carta diciamoci la verità o l'ha costruito proprio bene gliela potevamo lasciare secondo me allora qui la 4-3 quindi attaccherò con la 1-3 che race faccio con la 1-3 dai ragazzi non diciamo shemence io sto pescando un sacco di terre lui non le pesca non si sa che ha in mano probabilmente 3 terre c'è un bel anticipate che comunque è buono gli altri cimiteri no bottom terra la sapevamo un'altra terra sì vado proprio a 9 non faccio niente è una bella partita voi certo vi state vedendo questo video sarete proprio cioè meno male che avete la possibilità di schippare guarda diremo vabbè ma fammi andiamo avanti che schifo di partita ma pure lui ma che fa che s'aspetta io che è successo perché è morto ma che ho fatto ah ho sbagliato proprio carta oddio santo ma che disegno c'ha quel coso uguale uguale proprio vabbè ho fatto una cavolata quella mi avrebbe potuto effettivamente far vincere qui potevo almeno attaccare con la 4-3 a quel punto tremendo tremendo è quando si gioca nelle nuove espansioni e così però vedete c'è un'immagine al centro con qualcosa intorno un'immagine al centro con qualcosa intorno il mio cervello in un modo o nell'altro detto è quella siccome ne gioco due di questi almeno insomma voi mi siete testimoni chiaramente insomma ci si può sbagliare diciamo e non l'ho giocato l'altro è Fertile The Contro The Heart of the Enemy completamente diversi mi rendo conto però sono stato ingannato perché non è che li guardo poi benissimo ah questa è carina e non mi ha ammazzato niente fortunatamente io qua mi accoppio anche perché sto a 9 non è che posso fare tanto il sofisticato se avessi avuto quella nebbia l'avrebbe persa quella creatura ma io non ce l'ho più quella nebbia sto pescando solo terre poi ti chiedi ma perché la gente dice che magic è brutto e che è meglio Hearthstone perché non ci sono le terre no questo non è vero se siete arrivati fino a qui al minuto 51 di questo video andate a dire a tutti quelli che dicono questa frase che non è vero che le terre in magic permettono proprio al giocatore di fare delle partite diverse perché quando le peschi poche devi giocare con le carte che hai in mano e devi giocare in maniera diversa da come avresti giocato e provare a riprendere delle partite ogni tanto succede a te ogni tanto succede al tuo oppo basta eh mi ha pescato questo lui ha pescato questo tra l'altro bene ma non benissimo direi qui ci fa riprendere in mano che succede? ah questo non è lo shark nostro no 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 questo è lo shark molto più grosso è lo shark che ci fa fare rotellina 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 ragazzi abbiamo un mazzo mediocre giocato malissimo la nebbia buttata un mazzo mediocre un mazzo a 0-3 un mazzo a 0-3 se vinco una partita è un miracolo un miracolo comunque certo gioco con tutte le persone molto veloci a giocare a questo gioco e ci abbiamo messo un sacco ci abbiamo messo un sacco però dai ci divertiamo comunque dopo questo video oggi giornata speciale proprio cerchiamo di vedere anche le brew di standard al volo quelle che ho trovato online per quanto riguarda Icoria ok quindi tengo tra l'altro c'ho pure mano a bianco però c'ho talmente tante terre che preferisco aspettare a fare questa terra qui visto che non dà due blu attenzione lui cicla quello questo comunque forse è indecchabile oddio non è che ho visto tutti questi non lo so no non credo ma indecchabile questa carta è forte diciamoci la verità questa carta è forte io adesso blocco cioè per rendere di conto blocco e metto due terre questa carta è forte questa carta è proprio forte metto una blu due blu tipo no che passa blocco poi una submit blu una submit blu che vuoi di più dalla vita va bene facciamo un mostro uno due uno due tre quattro cinque sei no no sì sì top solution vai alla grande una 66 un ivy elemental che voglio dire la sua racconta non la racconterà tutto il mondo però racconta poi dalla 3 cinque tra l'altro pesca due questa volta ha fatto divination normale perché non aveva umani e non fa niente facciamo una terra io quella terra lì la voglio ciclare ve lo dico la ciclomot tra l'altro faccio non a volanti faccio vigilance 6 4 e 3 7 non va bene no finché non pesco tipo la nebbia non mi interessa oddio ma io adesso gioco questo ciclo no gioco questo facciamo scemezza eh allora una bordo più grossa della sua tra l'altro un mazzo uguale verde e blu adesso mi devo capescare non lo so appunto quello che spacca che la dura però comunque intanto ciclerò quella terra e c'ho rimozione quindi bene così bene così chi è felice water permanent cioè quindi lui c'ha companion no perché sennò sarebbe successo qualcosa di diverso allora questo è forte lo ricordo a tutti può mutare far diventare tipo questo no rimarrebbe una due due volare vabbè facciamo così questa comunque è pericolosa io quasi quasi questa qui la faccio cioè 5 e 4 perché dovrei farmi attaccare da una 5 e 4 ogni turno qui c'ho mille carte che ruga bella tra l'altro bella di brutto bella ma non balla no balla pure super sinergico tra l'altro il nostro 1-1 che si pompa con quello che mette le terre raga cioè diciamoci anche una certa verità no ho detto non mi voglio far attaccare da questo e non mi farò attaccare da questo ok tanto questo è il suo l'ha fatto a meno che non riesce a rimbalzarselo vai finito pescato mille carte adesso decidi di attaccare ce l'ho 3 mana sì quindi poi ce l'ho anche la terra dovuto tenere la 66 io qui devo pescare tipo nebbia tra l'altro questo ha i segnalini dai e non allora posso fare questo quindi scusa se io gli rimbalzo quel coso lui non muta più mi pare di aver capito che sia così voglio provare a vedere cosa c'è con i segnalini ragazzi quindi io qui non si gioca per vincere ma si gioca per testare bene tranquilli non vedremo va bene questa c'ha Rich Trampol mette dei segnalini tra l'altro diventa 5-5 noi praticamente abbiamo perso anche questa partita meglio così vado a letto vado a letto felice vado a letto tranquillo vado a letto sereno lui 5 carte in mano io pesco solo terre punto com ora pesco quello che mi mette le altre terre secondo me è molto probabile quasi sicuro questo è raro molto carino come si fa a vedere la carta quanto costa mutarlo non si può vedere la carta in sé devo vedere solo come è fatto adesso mille trigger 7-7 vola anche beh certo no spero di pescare la rimozione che ti fa 3x1 adesso però proprio lei trampla no non attacco target che succede questa carta target controlli as equal its power target controlli as stamp mamma mia fantastico e adesso neanche pescando la rimozione possiamo fare rotellina però la voglio pescare la rimozione cioè ci voglio provare questa 4x3 tra l'altro more gratis 7-7 mi è imboccata 5-2-7 a me vai mamma mia la benzina ma il mio mazzo era veramente un mazzo mediocre ragazzi grazie a tutti per aver guardato questi due video mediocre altro che sgarbati come direbbe lo zio garbe potremmo inventarcelo però un nuovo trend limited mediocre con akira dicevo che ho fatto per quanto riguarda l'uscita di coria per quanto riguarda il limited di coria oggi è una giornata dedicata al limited di coria sul mio canale e dopo uscirà un mazzo con le brew standard che ho trovato fino adesso magari fatte dai famosi streamer e non ho una brew di mango vi faccio vedere un po' di cose parliamo un po' di coria magari parliamo di come possa andare effettivamente a influenzare anche il modern e anche il pioneer quindi ecco il video che aspettavate sarà uscirà come prossimo o almeno questo non lo so magari vi siete divertiti anche a vedere questi miei due video lunghissimi grazie per aver guardato guardato